Ciao a tutti da Poderak, bentornati su Farming Simulator Oggi sono in compagnia del amico Fritz qui, amico Marco Buonasera, buonasera, buonasera Che sta cazzeggiando con la trebbia Nell'ultimo gameplay che era poi alla live, che Marco ovviamente ha visto Come no? Ho trebbiato sto campo qui E stavo finendo, anzi stava finendo l'operaio di seminare qui i semi di non so cosa No, come si chiama? La colza, giusto? La colza, sì E oggi cosa facciamo? Continuiamo a coltivare colza Sì, per quel campo coltiviamo colza, va bene? Per l'altro magari mettiamo soia, semi di soia Va bene Allora, vediamo quanti trattori, cos'è che ho io qua? Vediamo, trattore, trattore Oh, ho un camioncino qua Dietro il ciamoncino Io sto morendo Lo porto in base O lo lascio qua Vediamo, vediamo No, vado in base, vado in base Così vedo se vicino alla base ci sono degli alberi che posso tagliare Signor Marco, cosa ne pensa di quella Di quella bellissima seminatrice? Oh, stupendissima Però io donerei a Poddy per un server di farming Sinceramente Cioè, ma doniamo un server di farming a Poddy? Eh, ovviamente Sicuramente ci sarà qualche azienda che me lo invia Ah, ok, per esempio Che cavolo, inviami un server, no? Eh, scusate Dov'è che? Dov'è che? Che offre un server di farming a Poddy Sponsor live Ok, ma io mi dimentico sempre che ho la mappa gigante aperta e quindi dà fastidio Perché ci sono due Marco? Vedo un Marco lì posizionato qui Guarda qui, qui C'è un Marco E purtroppo, aspetta Ti sei sdoppiato? Adesso ci sono ancora? No, come hai fatto? Eh, è magia Cos'è che potrei fare? Cos'è che potrei comprare più che altro? Un trattore nuovo prima di tutto lo devo comprare perché Questo qua rosso fa schifo La trebbia l'abbiamo presa Quella l'abbiamo presa Si va a tagliare alberi Vai, vai Dopo vengo a farle Oppure puoi mettere anche l'operaglio e venire anche tu Oh, ma va che? Non spendiamo soldi, dai Tanto due minuti ho finito qua Bella, è pure piatto qua Io taglio l'albero a go-go Taglia, taglia Fai big money Aspetta, ma la Scorpion King quanto è che mi costa? Faremo 300 300.000 Guarda, quasi quasi me la compro Prima o poi Quanti ne hai? 97.000 No, dobbiamo aspettare un pochettino Su, raga, io ho chiesto tanto a Nick Comprami la scompria Dopo non me la compro Nella mia serie Cioè Ma guarda, ma come si fa? No, 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 no Come si fa a bloccare un albero così? Ah, che poi voi non la Si, l'avrete visto sicuramente Non so se Nick se ne è accorto Ma io ho tagliato un botto di alberi Ancora lui non se ne è accorto Lo scoprirete prima o poi nella sua serie Non spoileriamo Più poi che prima Perché ancora lui non se ne è accorto Quindi E non andate sotto i suoi video A dirglielo Se no vi banno a tutti Bagno Vi banno Mamma mia Ma io devo prendere sempre Sto cavolo di camion Per abbattere gli alberi Ti rendi conto? Eh, devi tagliarli proprio Orizzontali? In orizzontale, sì Io provo Orizzontale e non taglia In obbligo e non cade E devi aiutarti con CTRL Eh, CTRL Guarda, pure alla base lo tagli Alla base Deve cadere No, io non ti dico Vi danno uno di questi Problems Non cade mai Metto un obbligo Vediamo se non cade obbligo Ecco perché io voglio la Scorpion È facile È veloce Ah, è vero I prestiti Come faccio a chiederlo? Quant'è che costa? Quant'è che mi danno di prestito Massimo? Eh, massimo Massimo 300.000 Dovrebbe essere A posto ragazzi Dov'è 300.000? Dov'è che si va a chiedere prestito? No, non posso chiedere prestito No, no Questo non è prestito Questo è dare i soldi Dov'è che si chiedono i prestiti? Da parte Cioè dare Prendi Chiedi 5.000 Restituisci 5.000 Eh, ma mi chiedi 5.000 Massimo Sì, ma tu fai più volte Chiedi 5.000 E ti dà Un massimo di 300.000 Io arrivo a 300.000 ragazzi Mi compro la Scorpion Ok Ho tolto Ho perso tutti i soldi Andrò in debito Sicuro In rosso In rosso Vediamo dov'è Civicoltura Se mo' non arriva i soldi della Scorpion Mi arrabbi Oh, che cavolo ho fatto No, no, no 3.75 dovrebbe essere Boh 3.75 Mi pare Non sono sicuro Però, aspetta Lì partono i kebabari No, no 317.000 Bella Seleziona Compra Compra La lag Pazzesco Da notare Ops Scusate Non si può venire anche più il trattore Ma adesso sei bloccato ancora? A posto Adesso no A posto Io vado con la Scorpion King Raga Andiamo a comandare Oh Finalmente Il campo io Finalmente Scorpion King In meno di 5 gameplay Ti rendi conto? Madonna Non è che ci può Di Ma va lentissimo Allora Vediamo Ta 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 Tu hai finito il campo? Sì Adesso Semino quello di Semino di soia Va bene? Bella Eh sì Infatti Ringrazio Ivan Che me l'ha detto Ivan mi ha detto Oh podra Che hai fatto uno sbaglio Dovevi Dovevi mettere I semi di soia Non la colza Ho avuto poi conferma Dal mitico Marco E niente Adesso facciamo Non allarghiamoci Signor podi Eh Ma 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 io mi compro Mi compro così I lavoratori Ah bravo Bravo F1 Vediamo F1 vediamo Dopo ovviamente podi mi farà un bonifico eh Sì sì Ho preso i dati prima infatti Quindi Quante Ma l'auto caricante non mi ricordo se gli 8 metri li accetta Vediamo Teoria sì In pratica In pratica In pratica no In pratica no Vediamo Scusa è giusto per curiosità Se no se li taglio dopo tutti a 8 Allora Lato sinistro Qual è la sinistra? Lato sinistro Ok Avvia Avvia caricamento Vediamo se va Ok No no Funziona Bella Quindi faccio tutti da 8 metri Questi qui però li devo tagliare Non è che io li lascio così Ok Taglio 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 Ok Taglio quest'altro Che quasi quasi forse li posso prendere direttamente A quanto sono corti sti alberi Ah sì Mo provo Mo provo Questo camo Comunque raga Non so chi è che dice che odia il man Ma il man è meglio di quello lì americano Su farming simulator Il man o il pied Il man o il pied Me sinceramente il coso lì americano Non si può guidare No no Mi sa che è troppo lungo Lo devo dividere in due Cosa il camion? No L'albero Vai È sparito mezzo albero Manager farming Quante bagaglie Oh ma Martin Che è un manager Che con cui parlo Che lavora con Giant Sistema un po' di bug Per favore Cioè Poddy raga Ha contatti con tutti Belli e brutti Ah Poddy mi sa che aggancia anche con Donald No Donald Eh no Donald Non Donald Trump Con quello lì del McDonald No mi è caduto il legno Guarda mi sta cadendo tutta la legna No io con il Burger King sono affiliato Ah No che poi perché stiamo facendo pubblicità a caso E appunto Mettiamo il bip Mi raccomando Oh se volete inviarmi qualche cash per aver detto Eh inviatemelo eh Vengo pure a mangiare se volete Ok Oh che è rimasto Che buono Ho rimasto No guarda tutta la legna sta cadendo Che dovresti Hai trovato una mod del cavolo Poddy Ma perché me la carica tutta indietro Cioè Avvia caricamento Ok Ha caricato Ricarichiamo sti tronchetti Anche tu kinder Se ogni tanto vuoi pagarmi Per ogni volta che ho detto Tronchi Ben apprezzo Un bonifico Che ho detto Poi non lo so Ok Ok Anche lì c'è un po' di legna Allacciamo qua Com'è che è? Eh laccio Mancano due strisce Poi detto così Eh infatti Era buona almeno La soglia intendo Il seme di soglia Era buono Non diciamolo Ma è avviato il caricamento? Sì Avvia caricamento Non va Perché sicuramente Odia sto pezzettino Magari in pendenza È sparito tutto l'albero Mamma mia Cioè Mamma mia Io ci sono rimasto male Ci sono rimasto male Speravo Ok Io ho finito Bella Allora vieni sulla Scorpion King Ma arrivo Ma arrivo Ti regalo la Scorpion King Non so se mi spiego Cioè ragazzi Ho regalato la Scorpion King Yeah Andiamo Invece me la Ho regalo da Poddy Ci metto otto giorni A venire sto Marco Me lo rubo io Ma sto Scorpion King Che stai facendo? Vai Vengo con il JCP Pod Ma non potevi fare Tab Sì no Dico Chiedo No 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 Lascialo lì Sto sistemando Ok Che è successo? Perché non me lo prendo? E chi me Ti regalo la Scorpion King? Vai Vai Ti regalo la Scorpion King Io faccio Il camionista Stavo messi bene Devo Eccomi come si usa Mi raccomando Fallo da otto Possibilmente vicino al camion In una posizione Che posso prendere Calmati Aspetta Fammi vedere Ok Sì sì Così in teoria Potrebbe andare Dai Aspetta Aspetta Y Slaccio Otto metri Vai Che poi dove Me l'hai messo Adesso io Com'è che devo farlo A prendere Sto cosa Adesso devo fare così Devo ricordare Come si usa Sto Pons Ma sai che ti dico Ma io vendo Sempre così Veloce Come ha fatto A caricarsi Con i lacci Ho i lacci Ma perché c'è Marco Sennò Marco Ma di solito Quando ci sono i lacci Non me lo prende E così Facciamo sto albero E dopo vado a vendere E terminiamo Questo gameplay Ragazzi Dove ho comprato Lo scorpion king Ma il prossimo obiettivo Sempre che riesco A mantenerlo E comprare Un nuovo Ma cosa sto facendo Stai giocando Stai facendo ballare La scorpion Dimelo Aspetta Pody Vediamo Ah io aspetta qua Io sto qui Aspetta Metto le quattro frecce Ecco bravo Attendo Non me lo prendo Ho preso Preso A posto Vediamo se riesce Ah addirittura dentro Direttamente Oh direttamente Oh ma che pronto Mamma mia che pro Ragazzi Ma spostati Spostati Ingegneria e meccanica Cioè Ma Qui abbiamo un nuovo ingegnere Guarda Carica da solo Questo sparisce Ah no Bella Mamma mia che pro Che pro Non ha neanche fatto sparire Il tronchettino E frattempo che tu tagli Io vado a vendere Così dopo Dici ce la fai ancora Vabbè Non ho come vuole Mi fido Mi fido che ce la fai Ma se si vuole fidare Mi fido dai Di questo Faccio Sto altro albero E dopo vado a vendere Eh Questa volta no Non è andato Aspetta vediamo Se faccio così Ve l'ha preso Guarda il laccio Ve lo mette Ve lo metti Guarda ve lo mette il laccio Ve lo mette sì il laccio Eh Ma non penso che cade No no Io eviterei quello Che vi fa Ecco Ragazzi Sport estremo Guardate Non cadono La fisica In questo gioco Spostati Mamma mia E poderhack corre Dove che sto correndo Alla legnaia Devo correre Ma esiste Come vocabolare Legnaia Per te Boh Io non lo so Vediamo quanti cash Dai scommetti un po' Quanto Quanto guadagni In questo In questa vendita Di tronchi Io Eh No Ah ok Ebbene non penso Ci siano altre persone C'è qualcun altro No No non so Quanto potresti guadagnare Boh Dai spara un numero Uno sputo di numero 20.000 20.000 No 20.000 Mamma mia Mi compro una macchina Vado a vendere Dovrebbe essere pieno Il 20.000 20.000 Siete pieno Ci credo mai nella vita Adesso sarà un 5.000 6.000 Ah Esagerando Ah Esagerando Ma Oh ma Tu vai da NCS All'altro Però Hai visto Io il bello Che sono H Cub Togliamo i lacci Prima di tutto Si blocca Ehm Come si fa a staccare Q No R Ah il La CR No Abbiamo fatto Più o meno Sì 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 No 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 Ok Abbiamo fatto Più o meno Occhio e croce 4.000 euro No aspetta No cosa dico Eravamo Boh non lo so Guarda Non mi ricordo No no Forse abbiamo fatto 9.000 Perché era 30.000 Qualcosa Ma non mi ricordo Se era 36.000 Roba così Vabbò ragazzi Me lo direte voi Nei commenti Quanto avrò fatto Comunque Detto questo Spero che Questo gameplay Vi sia piaciuto Ringrazio Marco Per aver partecipato Alla super mappa Di Poderak E mi raccomando Lasciatevi un bel like Iscrivetevi al canale Per rimanere aggiornati Sui prossimi video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Ciao